Quando mi avevano proposto l'impianto con la pompa di calore i consulenti di Aira mi avevano prospettato un risparmio energetico significativo ma quello che mi interessava di più era di eliminare completamente le emissioni di gas serra. Per passare una pompa di calore Aira il primo passo è effettuare sopralluogo da quello che è il cliente e quindi anche una progettazione dell'impianto. Ho interpellato il consulente Aira che è venuto a fare sopralluogo e hanno verificato dove potevano installare l'unità esterna e l'unità interna e mi hanno garantito che non ci sarebbe stato da fare alcunché dal punto di vista dei lavori in muratura. Il signor Simone ha deciso di intraprendere un percorso con Aira principalmente per il nostro piano all inclusive. Quest'ultimo comprende dall'analisi tecnica quindi da quello che è sopralluogo e poi la progettazione dell'impianto fino all'installazione e la sua futura manutenzione. L'intero processo è durato circa un mese dalla prima telefonata che ha effettuato il tecnico Aira all'installazione completa. L'installazione avverrà in circa 3-4 giorni di lavoro ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di andare a creare meno problemi possibili al cliente per quanto riguarda la vecchia caldaia andremo a toglierla e la smaltiremo noi nel modo più ecologico possibile. Un altro vantaggio significativo dell'offerta Aira è la garanzia comfort che mi garantisce una temperatura costante anche nei mesi più freddi dell'anno. Quest'ultima garantisce al cliente una temperatura di 20 gradi in casa anche il giorno più freddo dell'anno. Questa pompa di calore è molto silenziosa l'unità esterna praticamente non si sente il rumore. Le pompe di calore possono essere installate nella maggior parte delle case italiane quindi possiamo andare a valutare sia case con riscaldamento a pavimento che case con i radiatori classici. Inoltre se la casa ha già presente un impianto fotovoltaico diciamo che l'abbinamento sarà vincente. La cosa molto bella è che non mi hanno sporcato niente alla fine del cantiere hanno rimosso tutto e non mi hanno creato disagi. Prima di lasciare la casa del cliente ci assicuriamo che sia tutto in ordine dopodiché spieghiamo al cliente come funziona l'app per andare a gestire tutte le funzionalità della pompa di calore Aira. Da quando ho installato la pompa di calore ho notato un risparmio. Un'altra cosa che ho apprezzato molto dell'offerta Aira era che si occupavano integralmente delle pratiche per usufruire dell'eco bonus. Affidando tutto a loro un'offerta integrata mi hanno espletato tutte le pratiche nel tempo dovuto e quindi potrò usufruire dell'eco bonus senza ulteriori problemi. Fin da subito ho riscontrato un funzionamento perfetto perché l'acqua c'è calda in quantità nella temperatura voluta e nelle quantità volute e quindi mia moglie soddisfate.